Grazie a tutti, io sono veramente conosco perché è stata una strada esattamente fantastica. Posso capire veramente il sentimento di signaco, di avere un'orchestra a mille diverse gente. Devo dire che in questi ultimi anni sono particolarmente affezionato, perché Cassini ha dedicato a Luigi Cambiato, oggi è stata la dedica della Targa sulla sua casa Natale. C'è stata una collaborazione con Riccadone per portare avanti il progetto di un tanto volo che è stato fatto per lui. E noi siamo proprio contenti che questo paese qui si ricordi così tanto di Luigi, perché Luigi ha fatto delle grandissime cose, non dovrei inserirlo, ma queste cose qui le portate avanti voi, che siete qui stasera e lo fate insieme a noi. Quindi io non posso altro che veramente ringraziarvi per il vostro coinvolgimento che avete dimostrato in tutta la strada. Veramente grazie. Grazie. Io penso che a questo punto le uniche parole che si impostano al giudice siano delle parole di Luigi. una canzone che si intitola La Mia Valle, che direi che è quanto più, penso, appropriata in questa circostanza. Tra l'altro la musica è una musica popolata italiana che poi fu rilavorata addirittura da Giacoschi nel capriccio italiano. E Luigi scrisse queste parole. Se un giorno tu verrai via con me, amore mio, andremo insieme a vivere là, nella mia valle. Dove ho imparato ad amare il sole perché fa crescere l'acqua nei prati. Se un giorno tu verrai via con me, amore mio, andremo insieme a vivere là, nella mia valle. Dove la gente lavora in campo della mattina se non la sera, senza problemi per investire e con la barba sempre da fare. Se un giorno tu verrai via con me, amore mio, andremo insieme a vivere là, nella mia valle. E se quel giorno tu non vivrai, io dovrò piangere, ma andrò da sola. Perché se un giorno dovrò morire, voglio vivere nella mia valle. E se un giorno tu non vivrai, ma questo esprime i sentimenti che Luigi aveva per i luoghi dove è nato ed è cresciuto. E vorrei ancora citare una frase che ha scritto, una bellissima frase che ha scritto Margherita Ginevra Piacettini, che mi ha dato l'autorizzazione per citarla, e ha scritto queste parole splendide. Luigi Tenco, che era la trombolo nero nel mondo della canzone italiana. L'artista puro, che trovava ispirazione in ogni fonte di vita, e che non appena diventò il cinema più bello, fu strappato all'acqua del successo. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie 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 a tutti. E' un altro discorso. Io mi riferivo ad altri tipi di considerazione. L'altro ragazzo ha scritto un bel libro su un film che Luigi ha girato, che non so, forse non è molto noto, si chiama La coscienza. E' un film che mi riferivo ad altri tipi di considerazione. Quello è stato veramente un'idea geniale. Quindi noi abbiamo il concetto di non lo conosciamo, lo stimiamo e lo riconosciamo. Grazie a tutti. E' un'altra persona che mi riferivo ad altri tipi di ricordi di tutti i ricordi e di tutte cose particolari. Tutto quello che ogni tanto ne viene fuori di una nuova. E' un'altra cosa. Quindi vogliamo ringraziare. che è stato bellissimo. E' stato bellissimo. Non dico attuale, ancora dipendente. Lasciamo quindi una parola a Claudia. Così iniziamo la seconda parte. Possiamo iniziare in buonnessione.